La mappa di L'Uvurg è stata realizzata da Alissa Levi e Marta Angelini. L'Uvurg, nelle Marche, più precisamente a Santa Maria, lungo le rive del fiume Tronto, troviamo delle sorgenti di acqua solfuria chiamate L'Uvurg. Un piccolo angolo di paradiso che recentemente è stato risistemato. È un'area naturalistica nata in un luogo la cui storia è sempre stata legata alle proprietà curative delle sue acque. Già in epoca romana si era a conoscenza di questo dono della natura per curarsi. Sulla riva del fiume Tronto troviamo un paio di vasche artificiali ricavate con sassi e pannelli in legno. L'acqua di L'Uvurg ha una temperatura costante di circa 27 gradi centigradi. Scendendo dalla via principale sulla parte destra vi è una sorgente di acqua termale, dove sul letto è possibile prendere il fango e adoperarlo come maschera di bellezza. Vi invitiamo a visitare questo posto, ma rispettandolo. La mappa di Fornara è della cava Tancredi, fatta da Angelo. I luoghi di cui si parla ora sono la cava Tancredi e Fornara. A me suscitano libertà, bellezza e felicità. Quando cammini nelle mulattiere puoi incontrare lupi, cervi, lepri, cinghiali. E poi c'è il bosco, con la sua vegetazione, dove ci sono funghi, porcini, asparagi e tartufo. Questi animali e piante mi affascinano da sempre. Ed io vi consiglio di andarci perché è bellissimo. Le mulattiere collegano la cava Tancredi con Fornara ed altri paesi. In queste stradine si possono vedere gli animali e godersi la natura. Nelle mulattiere, che erano state costruite dai contadini, servivano per andare a pascolare ad enormi piani. Gli animali che pascolavano erano mucche, bue, tori e vitelli, poi capre, pecore e agnelli. La mappa di Acqua Santa Terme e la chiesa di San Giovanni è stata realizzata da Giovanni Vitangeli. Il mio paese si chiama Acqua Santa Terme ed è un paese tranquillo, turistico e legato alle tradizioni. Infatti, secondo me, proprio queste sono le cose che lo rendono bello, oltre alle bellezze naturali e prodotti tipici che offre. La chiesa è stata costruita nel 1039 in pietra ed è stata decorata da Nicola Di Dini e Guglielmo Cantala Messa. Fu ristrutturata nel 1980 circa e poi tra il 2010 e il 2014. A causa del terremoto del 2016 è divenuta inagibile ed è stata sistemata circa un anno e mezzo fa. Per chi volesse venire a visitare Acqua Santa, io consiglio di venire intorno al 24 giugno, ovvero la festa del Santo Quattrano di Acqua Santa, San Giovanni Battista. Mappa di Castel di Luco. Riccardo De Matteis. Castel di Luco per me è un posto dove quando una persona è triste può andare al castello. E fidatevi che è un posto rilassante. Castel di Luco è un posto bellissimo. Purtroppo dal terremoto del 2016 è stato rovinato, ma fortunatamente ora è stato ricostruito. Questo luogo mi affascina perché è immerso nella natura. Mi piace la sua forma circolare e il suo colore, ma soprattutto gli oggetti che ci sono dentro, come le carceri, i vasi antichi e il macchinare per fare il vino. In questo posto ci vedo da quando sono piccolo e ancora oggi continuo ad andarci e mi affascina sempre di più. La mappa è stata realizzata da Luca Riti e Riccardo Esposto. Il luogo che abbiamo scelto di descrivere è il ponte di Ponte Darli, denominato anche Ponte Vecchio. Attraversa il fiume Tronto ed è costruito interamente in muratura con una conformazione a schiena d'asino. In passato l'unico collegamento pedonale tra Ponte Darli e l'antica Salaria. Il Ponte Vecchio è stato costruito tra il 1572 e il 1570. dai maestri comacini, nel rispetto di tutti i canoni costruttivi, utilizzando il congi di travertino, sistema già usato dai romani. Oltre alle sue peculiari caratteristiche costruttive, architettoniche, il Ponte Vecchio con la sua conformazione slanciata si inserisce in una perfetta armonia con il paesaggio circostante. Abbiamo scelto questo luogo perché viviamo da quando siamo nati ed è molto interessante anche per la sua storia. La mappa delle mulattiere è stata realizzata da Elisa Giorgi, Silvia Petracci e Martina Pulitori. Oggi vi parlerò delle vie mulattiere. L'iniziativa di ripulire il percorso delle mulattiere nasce per promuovere il territorio acquasantano attraverso il ripristino, la mappatura e la valorizzazione dell'antica rete dei sentieri. Si collegano i preziosi borghi del comune di Acqua Santa con i paesi al vicino Abruzzo. Le antiche vie mulattiere e l'acqua santano sono un progetto realizzato dall'associazione Pro Acqua Santa Terme. Un giorno un signore ci ha raccontato che nelle mulattiere si faceva il carbone ed anche che queste strade erano molto percorse perché erano brevi ed inoltre si chiamano così perché sono percorse ai muli. Abbiamo scelto questo luogo perché crediamo che debba essere rispettato e non trascurato. Ogni volta che percorriamo queste strade siamo felici, orgogliose e stiamo molto bene perché ci troviamo a contatto con la natura e ci sentiamo una cosa sola. La mappa di centrale è stata disegnata da Simbad Kirgisbae e Elisa Martelli. La storia del luogo che abbiamo scelto ci è stata raccontata dal mio vicino Roberto che mi ha detto che la centrale italelettica vecchia è stata costruita tra il 1905 e il 1907. Veniva usata come alloggio per operai e famiglie. I piani superiori erano i dormitori con cucinette mentre il piano terra era l'officina. C'era un unico bagno per tutti di fianco al secondo portone. Dopo anni fu costruito un secondo edificio con appartamenti. Ora questa centrale non funziona più nonostante vari tentativi di restauro. Infatti al suo posto c'è la nuova centrale idroelettrica di Vena Martello. Mappa delle terme di Acqua Santa di Carmine Jacopo Abbiamo deciso di parlare delle terme di Acqua Santa perché è un luogo fantastico da visitare. Il nostro territorio è ricco di acqua e delle proprietà benefiche. Oltre allo stabilimento termale a cui si accede pagando un biglietto ci sono punti sparsi nel territorio in cui emergono le acque solfurie e chiunque può fare liberamente un bagno rilassante. È un'esperienza bellissima. La mappa del monastero di Valle d'Acqua di Daniela Levi e Valerio Santo Il monastero è un luogo molto accogliente dove si può alloggiare e pregare Dio. I monaci vendono prodotti artigianali e il monastero si trova nella località di Valle d'Acqua, immerso in un bellissimo paesaggio. Se qualcuno di voi volesse fare un giro nelle nostre zone sicuramente sarebbe una delle tappe da visitare. La chiesa è di origine farfense. Venne riedificata sugli antichi ruderi nel XIII secolo. Le sue origini infatti sono antichissime. Risalgono al 986, anno in cui il vescovo di Ascoli la fece costruire insieme all'annesso monastero. Attraversando questo luogo si provano sensazioni di pace e serenità ed è un'esperienza che raccomandiamo a tutti. La mappa del Carnevale di Pozza è stata realizzata da Elisa Pedicelli e Silvia Ticchiarelli. A Pozza il Carnevale è molto sentito. Tutti avrete sentito parlare dello Zanni. Lo Zanni è una maschera importata nel Medioevo dal nord Italia. Nel 2011 il Carnevale di Pozza è diventato il quarto Carnevale storico del Piceno. Lo Zanni stupisce il pubblico per i suoi colori, per il suo portamento ma soprattutto per il suo cappello conico chiamato Coccarda. È accompagnato dalla staiola, cioè da una spada di legno, dove è raffigurato il lato del bene e del male. Il corteo carnivalesco è formato dalle seguenti maschere. Il diavolo che apre il corteo e incute timore. Dal carabiniere che tiene a bada il diavolo. Il suonatore di organetto o tamburello. La coppia di sposi che si trova dietro i suonatori e gli Zanni si trovano dietro gli sposi. In passato vi era anche la maschera della morte. Noi siamo legati allo Zanni perché sin da quando siamo piccole partecipiamo a questo Carnevale. Mappa di Pagese di Alessandro Faustini Il mio paesino si chiama Pagese. È abbastanza piccolo ma ha molti abitanti, tra cui alcuni dei miei amici. L'unico ed importante monumento che è la chiesa di San Lorenzo. Monumento sul cui ho fatto il mio progetto. Costruita nel XIII secolo, fu abbandonata nel XVI e diventò la sede del sindacato del comune di Acqua Santa. Fu anche costruita all'aula del Parlamento della cittadina di Pagese, dove si organizzavano assemblee pubbliche. Al suo interno fu anche edificato un ospedale. Ad oggi si svolgono regolarmente funzioni religiose. È bello viverci, soprattutto quando esci con i tuoi amici, perché ci sono molte strade a percorrere sia in bici che a piedi. È collegata ad altri paesini di provincia, come Acqua Santa, Santa Maria, Cagnano ed Arola. Ed è circondata maggiormente da montagne. Devo dire che vivere in un paese in montagna è più bello di vivere in una città, perché è più rilassante ed è anche molto più bello conoscendo tutto. E anche facendosi camminati in montagna, passando per le mulattiere e per i sentieri. C'è anche da dire che in inverno fa molto freddo e piove tanto. Grazie.